eravamo stati tutto il giorno a caccia di cinghiali quando fummo sorpresi da un violento temporale e fummo costretti a ripararci in una grotta fu Makoko, la nostra guida a tradurre in parole il pensiero che tormentava tutti noi Matisse, Allan, Makoko e Dio se il proprietario di quella casa laggiù che si dice sia frequentata dal diavolo non ci offrirà ospitalità stanotte? saremmo costretti a dormire qui aveva appena finito di parlare che una strana figura apparde all'ingresso della grotta e lui, disse Makoko afferrandomi per un braccio guardai attentamente quello sconosciuto era alto, magro, quasi ossuto e aveva un'aria triste Vignaro della nostra presenza intenuta da caccia se ne stava appoggiato all'ingresso della grotta offrendo alla nostra vista un naso acquidino baffi sottili una bocca dall'espressione severa e occhi assenti non aveva cappello e i capelli sottili ricadevano in piccoli riccioli grigi dietro le orecchie era di un'età indefinibile tra i 40 e i 60 anni doveva essere stato molto bello nei giorni in cui la luce brillava e in quegli occhi appannati dal tempo e quella bocca dalla smorfia amara poteva ancora addolcirsi con un sorriso bello ma di una bellezza alta e severa tuttavia dalle sue fattezze spettrali come quelle di un'apparizione si sprigionava a una grande forza gli stava accanto un cane senza peli con le zampe corte che abbaiava rivolto verso di noi ma noi non sentivamo niente il cane era muto e abbaiava in silenzio improvvisamente l'uomo si voltò verso di noi e disse con voce estremamente cortese signori è fuori discussione che voi possiate tornare alla show de fonds stanotte accettate di essere miei ospiti poi piegandosi sul cane disse smettila di abbaiare mister il cane chiuse immediatamente la bocca ma Coco borbottò durante la caccia Matisse e Ma Coco avevano raccontato a me e ad Allen che eravamo nuovi del posto strane storie sul nostro ospite del quale si diceva che come Faust avesse rapporti con lo spirito del male eravamo quindi molto agitati quando lasciamo la grotta signori disse il forestiero con un sorriso triste sono trascorsi molti anni da quando la porta della mia casa era sempre aperta agli ospiti non amo molto i miei simili ma devo dirvi che una notte sei mesi fa un giovanotto che non riusciva a trovare la strada del ritorno bussò a quella porta e chiese asilo fino al mattino dopo ma io mi rifiutai di ospitarlo il mattino dopo in fondo alla cava di marmo fu trovato un corpo in parte divorato dai lupi doveva essere Petile Duke urlò Ma Coco è stato così spietato da rifiutare la sua ospitalità quel povero ragazzo di notte in pieno inverno è stato lei a ucciderlo ben detto rispose l'uomo con semplicità sono stato io a ucciderlo e ora potete constatare che l'incidente mi ha reso ospitale vuole dirsi perché l'ha scacciato disse Ma Coco in tono minaccioso perché la mia casa porta sfortuna preferirai correre il rischio di incontrare gli spiriti delle tenebre piuttosto che prendere un raffreddore ribattei ridendo ci avviamo senza parlare e in breve arrivamo alla porta della vecchia casa che si trovava in un posto desolato sulla nuda roccia battuta da tutti i venti enorme porta attraversata da sbarre di ferro pissate con enormi chiodi girò lentamente sui cardini aprendosi silenziosamente una piccola donna raggrinzita era lì a riceverci sulla soglia si vedeva una grande stanza dal soffritto alto che in origine doveva essere la sala d'aspetto doveva essere quello che rimaneva del castello sulle rovine del quale alcuni secoli prima era stata costruita la casa era illuminata da un enorme camino dove bruciava un grosso tronco e da due lampadine a olio appese a una catena di ferro fissata al soffitto di pietra gli unici mobili erano un pesante tavolo di legno bianco una poltrona in pelle alcuni sgabelli e una credenza rustica attraversammo la stanza la donna aprì una porta e noi ci trovammo ai piedi di una scala a chiocciola con i gradini consumati la scala portava al secondo piano dove la donna ci accompagnò alle nostre camere ancora oggi ricordo perfettamente il nostro ospite dovessi vivere cento anni non potrei mai dimenticarlo così come lo vedi stagliarsi davanti al camino quando entrai nella sala dove madre Appenzel aveva preparato per la cena stava di fronte ai miei amici dando le spalle all'enorme camino era in abito da sera ma che vestito da sera era perfetto ma di uno stile già superato da parecchi anni il collo alto della giacca con grandi risvolti i pantaloni alla zuava e le calze di seta il panciotto di velluto la cravatta tutto ricordava un'eleganza di giorni lontani mister era sdraiato accanto a lui le macelle spalancate in uno sbadiglio silenzioso come era stato silenzioso il suo abbaiare il suo cane è muto da molto osai chiedere che cosa mai gli è accaduto è muto dalla nascita rispose il mio ospite dopo una breve pausa come se non volesse parlare di quell'argomento ma io insistetti ma chi era muto il padre o la madre sua madre e la madre di sua madre rispose freddamente e anche la madre di questa quindi lei era il padrone della bisnonna di mister sì signore era una creatura molto fedele che mi amava molto un meraviglioso cane da guardia aggiunse con una certa emozione che mi colse di sorpresa e anche lei era muta dalla nascita no signore no non era muta dalla nascita ma diventò muta una notte dopo aver abbaiato troppo c'era un profondo significato nel modo in cui pronunciò quelle parole che io non capì in quel momento la cena fu servita e la conversazione fu molto animata ci chiese se ci piacevano le nostre camere vorrei chiederle un favore osai domandargli mi piacerebbe dormire nella camera degli spettri non avevo ancora finito di pronunciare quelle parole che il viso del nostro ospite divenne ancora più pallido chi l'ha detto che in questa casa c'è una camera abitata dagli spettri chiese riuscendo a nascondere a fatica la sua irritazione madre Appenzel che era appena entrata fu presa da un violento tremito è stata lei madre Appenzel non se la prenda con quella brava donna dissi deve condannare solamente il mio comportamento indiscreto stavo cercando di entrare in una camera che aveva la porta chiusa a chiave quando la sua cameriera mi ha proibito di farlo non entri nella camera degli specchi mi ha detto e lei naturalmente non l'ha fatto beh a dire il vero ci sono entrato che il cielo ci protegga disse Madra Appenzel con un lamento lasciando cadere un bicchiere che andò in pezzi vada via le urlò il padrone poi volgendosi verso di noi aggiunse siete molto curioso signore voglio perdonare il mio comportamento dissi ma mi permetta di ricordarle che è stato lei a dirci delle voci che corrono sulla sua casa la sua generosa ospitalità poteva essere un'occasione per disperderle dormendo in quella camera che ha una così cattiva reputazione e riposando bene nessuno potrebbe più dire usando le sue stesse parole che la sua casa porta a sfortuna il nostro ospite mi interruppe lei non dormirà in quella camera non è più una camera da letto nessuno ci ha più dormito da 50 anni chi ha dormito per ultimo? io e non consiglierai a nessuno di dormirci ha detto 50 anni fa all'epoca era ancora un bambino un'età in cui si ha paura di notte 50 anni fa io avevo 28 anni sono indiscreto se le chiedo cosa accadde in quella camera ci sono appena entrato e non mi è accaduto niente di strano mi sembra una camera come tante altre ho anche cercato di raddrizzare un armadio che sembrava sul punto di cadere lei ha toccato quell'armadio? urla l'uomo dettando il tovagliolo e venendo verso di me con una luce di follia negli occhi ha veramente toccato quell'armadio? sì risposi con molta calma come ho detto sembrava che stesse per cadere ma non può cadere non cadrà mai però non starà mai più dritto quella sarà la sua posizione naturale per i giorni a venire tremante di paura per l'eternità eravamo tutti in piedi queste parole misteriose erano state pronunciate con una voce molto dura il suo viso era coperto da grosse gocce di sudore e gli occhi che ci erano sembrati immediatamente appannati dal tempo fiammeggiavano d'ira mi afferrò il polso e lo serrò con una forza inaspettata non l'ha aperto vero? no quindi non sa che cosa c'è dentro no? bene meglio così per l'amor del cielo signore le assicuro che è meglio per lei rivolgendosi al cane urlò va cuccia quando ritroverai la tua voce mister o morirai come gli altri in silenzio aveva aperto la porta che portava a una torre e uscì guidando il cane davanti a lui eravamo tutti sconvolti da questa reazione inaspettata l'uomo era scomparso nelle tenebre della torre dietro al suo cane che cosa vi avevo detto commentò Makoko sottovoce voi potete fare quello che volete ma io non ho alcuna intenzione di dormire stanotte rimarrò seduto qui ad aspettare l'alba anch'io disse Matisse Makoko si piegò su di noi e con gli occhi fuori dalle orbite disse non vedete che è pazzo voi due con le vostre paure non ci impedirete di divertirci disse Alan che ne direste di giocare a carte chiederemo al nostro ospite di giocare con noi lo distrarrà dai suoi cattivi pensieri Alan era uno strano tipo la sua passione per le carte era quasi una mania aveva appena tirato fuori un mazzo di carte quando il nostro ospite rientrò nella sala era abbastanza calmo ma non appena vide il mazzo di carte sul tavolo i suoi tratti si alterarono assumendo una tale espressione di paura e rabbia che anche io ne fui spaventato carte urlò avete le carte Alan si alzò e disse gentilmente abbiamo deciso di non andare a dormire giocheremo a carte lei sa giocare Alan si interruppe anche lui era rimasto sorpreso dal viso atterrito del nostro ospite aveva gli occhi venati di rosso i peliradi dei baffi stavano dritti e si intravedeva il luccichio dei denti mentre un sibilo usciva dalle sue labbra carte carte le parole gli uscirono strozzate dalla gola come se una mano invisibile gliela stesse stringendo chi vi ha mandato qui con le carte cosa volete da me dovete bruciare le carte dovete bruciarle le ferrò all'improvviso e stava per gettarle nel fuoco ma poi si fermò le dita trevanti lasciarono cadere le carte e si abbandonò sulla poltrona dicendo con voce roca soffoco soffoco gli fummo subito intorno per aiutarlo ma lui con un semplice gesto delle sue dita ossute aveva già slacciato il colletto aveva allentato la cravatta e immobile tenendo la testa eretta sistemandosi nell'enorme poltrona scoppiò a piangere voi siete molto buoni disse con voce dolce dovete sapere tutto non dovete lasciare questa casa senza sapere pensando che io sia un pazzo un povero miserabile pazzo sì continuò dovete sapere vi potrà servire si alzò misurando la stanza a lunghi passi poi si fermò davanti a noi fissandoci con gli occhi stanchi dai quali era scomparsa la luce che li aveva resi vivi poco prima 60 anni fa entravo nel mio diciottesimo anno avevo la tipica presunzione dei giovani la natura mi aveva fatto bello e forte il destino mi aveva dato in dote un'enorme ricchezza divenne il giovanotto più alla moda dei miei tempi per dieci anni Parigi fu ai miei piedi a ventotto anni ero sull'orlo della rovina mi erano rimasti due o trecentomila franchi e questa casa con il terreno intorno proprio in quel periodo mi innamorai pazzamente di una creatura angelica non avrei mai sospettato potesse esistere una creatura così bella e pura una ragazza che io adoravo non sapeva niente dell'amore che mi stava consumando e non lo seppe mai la sua famiglia era una delle più ricche in Europa per nessuna cosa al mondo avrei voluto che lei potesse sospettare che io ambivo alla sua mano per la sua dote così cominciai a frequentare le bische nella vana speranza di riguadagnare i miei milioni perduti persi tutto e una sera lasciai Parigi per venire a seppellirmi in questa vecchia casa mio unico rifugio qui trovai un vecchio padre Appenzel sua nipote che dopo divenne la mia cameriera e un bambino molto piccolo che è cresciuto in questa casa e che ora è il mio amministratore fin dalla prima sera del mio arrivo fui preso dalla disperazione e dalla noia gli strani eventi che seguirono avvennero proprio di sera quando entrai in camera mia quella stessa nella quale voi volete dormire stanotte avevo deciso di suicidarmi sul cassettone c'era una coppia di pistole improvvisamente quando stavo per prenderne una il mio cane cominciò ad ululare nel cortile ululava con un'intensità più forte del vento ad eccezione di quello di questa sera pensai che mister stesse piangendo per la mia morte sapeva che volevo togliermi la vita giocherellai con la pistola rivedendo con gli occhi della mente la mia vita passata e chiedendomi per la prima volta come sarebbe stata la mia morte a un tratto il mio sguardo andò ai titoli di alcuni libri che erano su un piano sopra il cassettone constatai con sorpresa che tutti parlavano di magia e di argomenti concernenti le forze del male prese un libro intitolato gli stregoni degli ura e con il sorriso scettico dell'uomo che aveva sfidato il destino lo aprì fui subito colpito dalle prime due righe stampate in rosso chi vuole veramente vedere il diavolo deve solamente invocarlo con tutte le sue forze e lui verrà seguiva la storia di un uomo che disperatamente innamorato come me e rovinato sì come me aveva chiesto con tutte le forze l'aiuto del principe delle tenebre ed era stato aiutato infatti pochi mesi dopo era ritornato ad essere incredibilmente ricco e aveva sposato la donna amata lessi il racconto fino alla fine ecco un tipo fortunato esclamai gettando il libro sul cassettone mister stava ancora ululando scostai la tenda e fui colto da un tremito vedendo l'ombra del cane che danzava alla luce della luna sembrava invasato i suoi movimenti erano incredibilmente strani sembrava che stesse cercando di alzannare una forma inesistente cercai di ridersi sopra ma il mio stato mentale il racconto che avevo appena letto l'ululare del cane i suoi strani balzi la località sinistra la vecchia camera le pistole che io stesso avevo caricato tutto aveva contribuito ad eccitare la mia fantasia più di quanto non osassi confessare allontanandomi dalla finestra andai su e giù per la camera per un po' improvvisamente mi vidi riflesso nello specchio dell'armadio ero talmente pallido che credetti di essere morto no l'uomo che stava davanti all'armadio non era morto era un uomo vivo che stava invocando con tutte le sue forze il re delle anime perdute sì con tutte le mie forze ero troppo giovane per morire volevo ancora godermi la vita tornare ad essere ricco per lei per amor suo per il mio angelo sì io proprio io stavo chiamando il diavolo e allora nello specchio accanto a me prese forma qualcosa di sovrumano qualcosa di evanescente una nebbia una nuvola che si trasformò subito in occhi occhi incredibilmente dolci accanto al mio viso sofferente c'era un'altra forma splendente una bocca una bocca che diceva apri a quelle parole indietreggiai ma la bocca continuava a dire apri apri se osi farlo poi sentii bussare tre volte alla porta dell'armadio dall'interno e la porta si aprì da sola proprio in quel momento il racconto fu interrotto da tre colpi alla porta che si aprì improvvisamente entrò un uomo sei stato tu a bussare Guienne chiese il nostro ospite cercando in vano di ricomporsi sì signore non pensavo di vederti questa sera sei stato dal notaio sì e non volevo tenere una somma così grossa pensammo che Guienne fosse l'amministratore del nostro ospite si avvicinò al tavolo tiro fuori dalle pieghe del mantello una piccola borsa prese dei documenti e li mise sul tavolo poi prese una busta dalla sua borsa ne votò il contenuto sul tavolo e contò dodici banconote da mille franchi ecco il denaro per l'acquisto di Mr. Wood bene Guienne disse il nostro ospite prendendo le banconote e rimettendole nella busta devi essere affamato dormirai qui stanotte? no non posso devo andare dal fattore dobbiamo parlare di lavoro domani mattina presto comunque mangerai volentieri qualcosa vada madre Appenzel mio caro amico si prenderà cura di te disse e poi mentre l'amministratore andava verso la cucina aggiunse porta via queste cattacce l'uomo prese i documenti mentre il signore trasse dalla tasca un portafoglio mise dentro la busta con le dodici banconote e se lo rimise in tasca poi cominciò il suo racconto e rispondendo a una domanda di Macocco disse vuole sapere cosa c'era nell'armadio? glielo dirò c'era qualcosa che mi ferì gli occhi scritte in lettere di fuoco splendevano due parole tu vincerai sì continuò Cupo il diavolo con due parole scritte in caratteri di fuoco nel recesso dell'armadio aveva deciso il mio destino aveva lasciato la sua firma la prova irrefutabile del mio patto con lui stretto in quella tragica notte ero un giocatore d'azzardo rovinato io che avevo cercato di diventare ricco e lui mi ha detto tu vincerai con due piccole parole mi garantiva la ricchezza del mondo tu vincerai la mattina dopo il vecchio Appenzel mi trovò privo di sensi ai piedi dell'armadio quando rinvenni non avevo dimenticato niente ero destinato a non dimenticare mai quello che avevo visto ovunque vada ovunque mi portino i miei passi di notte o di giorno io vedo sempre quelle parole nell'oscurità nella luce splendente del sole sulla terra e nel cielo quando chiudo gli occhi sui vostri visi quando vi guardo si interruppe esausto e si lasciò andare sulla poltrona con un lamento devo dirvi riprese quasi subito che quell'esperienza era stata così terribile per me che fui costretto a mettermi a letto e padre Appenzel mi portò una bevanda calmante fatta con erbe poi signore è accaduta una cosa terribile il suo cane è diventato muto abbaia in silenzio mi disse oh lo so lo so esclamai non riacquisterà la sua voce fino a quando lui non gliela ridarà padre Appenzel mi guardò sbalordito e spaventato i miei capelli erano dritti sulla testa mio malgrado il mio sguardo andava all'armadio padre Appenzel agitato e allarmato come me disse signore quando questa mattina l'ho trovata sul pavimento l'armadio era inclinato come lo vede ora e la porta era aperta l'ho chiusa ma non sono riuscito a mettere dritto l'armadio sembra sempre che stia per cadere chiesi al vecchio Appenzel di lasciarmi solo mi alzai andai verso l'armadio e aprì l'anta vi prego cercate di immaginare quale fosse il mio stato d'animo quando feci ciò quelle parole quella frase scritta in lettere di fuoco era ancora lì era incisa nel legno aveva bruciato il legno con la sua impronta e alla luce del giorno lessi le stesse parole che avevo letto la notte precedente tu vincerai corsi fuori dalla camera invocando aiuto padre Appenzel ritornò e io gli dissi guarda nell'armadio e dimmi cosa vedi il mio cameriere ubbidì e mi disse tu vincerai mi vestì e corsi fuori dalla casa maledetta girovagai sulle montagne l'aria pura mi fece bene quando alla sera ritornai a casa ero perfettamente calmo e avevo riflettuto a lungo il mio cane forse era diventato muto per un fenomeno fisiologico naturale quanto a quelle fatidiche parole non potevano essere venute dal niente e dal momento che prima non avevo mai prestato particolare attenzione a quel mobile era molto probabile che quelle due parole fossero lì da tempo immemorabile incisa da qualcuno che praticava la magia nera forse dopo una perdita al gioco ma che comunque non avevano niente a che fare con me cenai e andai a dormire nella stessa camera la notte passò senza incidenti il giorno dopo andai alla show de fond a parlare con un notaio questa storia dell'armadio mi aveva spinto a voler tentare il fato che per me era personificato nelle carte volevo farlo per l'ultima volta prima di mettere in atto la mia idea del suicidio presi in prestito migliaio di franchi e partii per Parigi mentre scendevo le scale del club mi ricordai del mio incubo e non avendo alcuna speranza di vincere dissi a me stesso ora vedremo se il diavolo mi aiuterà non finì la mia frase quando entrai in sala stavano vendendo il banco l'ho presi per 200 luigi a metà della mano avevo già vinto 250.000 franchi ma nessuno voleva più giocare contro di me vincevo sempre ero molto eccitato non avrei mai nemmeno sperato di essere così fortunato rinunciai al banco cioè a quello che mi rimaneva da prendere dopo mi divertì a sfidare la fortuna solo per vedere cosa sarebbe accaduto ma in grado ciò continuavo a vincere da tutte le parti si sentivano esclamazioni di sorpresa i giocatori dicevano che avevo una fortuna del diavolo raccorsi la mia vincita e me ne andai appena in strada cominciai a riflettere e ad essere agitato ero turbato dalla coincidenza fra quello che era accaduto nella mia camera e la mia vincita all'improvviso e con mia grande sorpresa mi ritrovai ancora al club ero deciso ad andare fino in fondo la mia felicità era offuscata dal fatto che non avevo ancora perso volevo perdere almeno una volta quando al mattino lasciai il club avevo vinto non meno di un paio di milioni ma non avevo mai perso neppure una sola misera volta mi sembrava di impazzire quando dico che non avevo mai perso mi riferisco a tutte le volte che avevo giocato per soldi perché quando avevo giocato senza puntare solo per divertirmi avevo inusorabilmente perso ma appena qualcuno puntava qualcosa contro di me anche un misero franco io vincevo non importava quanto vincessi il fatto era che non riuscivo a perdere tu vincerai era quella terribile maledizione feci tutti i tentativi frequentai le peggiori bische e giocai a carte con i più famosi bari vincevo sempre vincevo tutti l'unica cosa che non riuscivo a fare era perdere adesso signori non riderete più non vi burlerete più di me vedete che non si deve mai avere fretta di ridere vi ho detto che ho visto il diavolo mi credete ora in quei momenti ho avuto la certezza la prova palpabile chiara a me e agli altri la prova naturale e terrena del mio disgustoso patto col diavolo non c'erano più dubbi c'era solamente l'assoluta certezza che avrai sempre vinto in eterno fino al giorno della mia morte morte non desideravo più morire per la prima volta nella mia vita ebbi paura della morte il terrore della morte mi perseguitava perché pensavo quello che mi sarebbe toccato alla fine il mio pensiero costante era di redimere la mia anima la mia miserabile anima perduta andavo in chiesa parlavo con i preti mi inginocchiavo sui gradini delle chiese battevo la mia testa in delirio sulle pietre sacre pregavo Dio che mi facesse perdere così come avevo pregato il diavolo di farmi vincere dopo aver pregato andavo nella prima bisca e puntavo qualche Luigi sulla prima carta ma vincevo sempre sempre tu vincerai neppure per un secondo ho pensato di poter essere felice con quel denaro maledetto offrivo il mio cuore a Dio ho distribuito i milioni che ho vinto ai poveri e sono venuto qui ad aspettare la morte che invece mi rifiuta la morte della quale ho tanta paura non ha più giocato da allora chiesi non ho più giocato da allora Allan mi aveva letto nel pensiero anche lui pensava che avremmo potuto salvare quell'uomo che entrambi consideravamo pazzo sono sicuro dissi che un così grande sacrificio le ha fatto guadagnare il perdono la sua disperazione era senza dubbio sincera e la vostra punizione è stata terribile che cosa le si potrebbe chiedere ancora se fossi in lei tenterei tenterebbe cosa esclamò l'uomo alzandosi di scatto tenterei per vedere se è ancora condannato a vincere l'uomo batte violentemente un pugno sul tavolo ed è questo il rimedio che mi suggerisce questo è tutto quello che sa dirmi dopo aver ascoltato la storia di una maledizione che trascende ogni cosa terrena voglio convincere un povero pazzo a giocare per dimostrargli che non è pazzo perché io so quello che pensa di me lo leggo nel suo viso è pazzo 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 non credo una parola di tutto quello che le ho detto lei mi giudica un folle giovanotto e anche lei aggiunse rivolgendosi ad alla anche lei pensa che io sia pazzo sì il suo vecchio pazzo ha visto il diavolo e glielo dimostrerà le carte dove sono le carte vedendole sul bordo del tavolo le afferrò l'ha voluto lei avevo cullato la speranza di non dover più fare questo infernale tentativo così che quando la mia ora fosse venuta avrei potuto sperare nel perdono di dio ecco le sue carte io non le toccherò sono sue le mescoli mi dia le carte che vuole bari come vuole le dico che vincerò mi crede ora Allan aveva preso tranquillamente le carte l'uomo gli mise una mano sulla spalla e gli chiese non mi crede vedremo disse Allan quale sarà la posta chiesi non so signori quanto potete permettervi di perdere ma ho il dovere di dirvi che voi che siete venuti a distruggere la mia ultima speranza siete degli uomini rovinati quindi prese il suo portafoglio e lo mise sul tavolo dicendo giocheremo tutto il contenuto di questo portafoglio su cinque tiri di carte e questo è solo per cominciare dopo giocherò come vorrete finché vi manderò via di qui completamente ripuliti voi e i vostri amici rovinati per il resto della vostra vita sì completamente ripuliti vuole portarci via tutto chiese Allan che era meno impressionato di me vuole anche le nostre camicie anche le vostre anime urlò il diavolo che darò in cambio della mia Allan mi guardò ammiccando e disse diciamo che accettiamo accettai mescolai le carte e le porsi al mio avversario lui tagliò io giocai per primo e scoprì il fante di cuori il nostro ospite guardò le sue carte e giocò era chiaro che non avrebbe dovuto giocare con quelle carte tre piccoli fiori la regina di quadri e il sette di picche fece una presa con la regina io feci le altre quattro prese e avendo giocato lui segnai due punti non avevo il minimo dubbio che stesse facendo di tutto per perdere doveva giocare lui scoprì il re di picche non riuscì a nascondere un brivido quando vide quella carta che suo malgrado gli fece fare una presa controllò le sue carte visibilmente agitato era il mio turno per chiedere le carte lui non ne volle evidentemente credeva di avere delle carte molto brutte ma anche le mie lo erano lui aveva un dieci di cuori che prese il mio nove io avevo il nove il sette e l'otto di cuori nessuno di noi aveva un onore segnò un punto che insieme a quello fatto con il suo re facevano due punti a suo favore eravamo pari entrambi avevamo la possibilità di chiudere il gioco segnando un punto dovevo giocare io scoprì l'otto di quadri questa volta entrambi chiedemmo carta lui ne chiese una e mi fece vedere quella che aveva scartato il sette di quadri non voleva avere altre carte riuscì a farmi segnare altri due punti facendomi arrivare a quattro nostro malgrado Allan e io guardammo il portafoglio il nostro pensiero correva lì c'è una piccola fortuna che tra poco sarà nostra una fortuna che dovevamo ammettere non avremmo fatto fatica a vincere il nostro ospite diede le carte e quando vidi quelle che mi aveva dato considerai la partita finita questa volta avevo scoperto un sette di fiori io avevo due cuori e tre onori l'asso è il re di cuori l'asso è il dieci e il nove di fiori giocai il re e il mio avversario la regina giocai l'asso e il mio avversario fu costretto a prenderlo con un fante di cuori e poi giocò un quadri che io presi con una briscola poi giocai l'asso di briscola lui lo prese con la regina ma avevo pronta per lui la mia ultima carta il dieci di fiori lui aveva il fante di briscola segnò due punti arrivando a quattro il nostro ospite lanciò un'imprecazione non deve preoccuparsi dissi nessuno ha ancora vinto stiamo per dimostrarle disse Alan rompendo un silenzio glaciale che può perdere come qualsiasi altro essere mortale non posso perdere si lamentò il nostro ospite il gioco aveva raggiunto il massimo della tensione un solo punto e uno di noi due sarebbe stato il vincitore se avessi avuto un re la partita si sarebbe conclusa e io avrei vinto dodici mila franchi da un uomo che affermava di non poter perdere avevo il re il re di cuori avevo vinto il mio avversario mandò un urlo di gioia si chinò sulla carta la guardò attentamente la tenne tra le dita la avvicinò agli occhi e pensammo che volesse baciarla poi mormorò buon dio è possibile allora allora ho perso così sembra Allan aggiunse ora si rende conto che non si deve mai credere a quello che dice il diavolo l'uomo prese il portafoglio e l'aprì signori vi benedico per aver vinto tutto quello che c'è in questo portafoglio se ci fosse un milione qui dentro ve lo darai molto volentieri frugò nel portafoglio con mani tremanti lo vuotò del suo contenuto ma con grande sorpresa non trovò i dodici mila franchi il denaro non c'era più il portafoglio era vuoto non c'era niente dentro rimanemmo sbalorditi davanti a questo inspiegabile fenomeno prendemmo il portafoglio lo toccammo da tutte le parti lo esaminammo attentamente ma il risultato era sempre quello era inesorabilmente vuoto il nostro ospite livido come invasato continuava a frugarsi addosso e a chiedere a noi di farlo gli ubbidimmo perché eravamo soggiogati dalla sua volontà ma non trovammo niente ascoltate esgramò ascoltate non vi sembra che il vento stanotte abbia la voce di un cane ascoltammo e Makoko disse è vero il fischiare del vento sembra veramente l'abbaiare di un cane lì dietro la porta qualcuno stava battendo alla porta e sentimmo una voce che diceva aprite tirai i paletti e aprì la porta una forma umana corse dentro è l'amministratore esclamai signora signora ma cosa accade dicemmo tutti quasi senza fiato chiedendoci quale altra sorpresa ti avrebbe riservato quella strana serata signora credevo di averle dato dodici mila franchi e sono convinto di averlo fatto questi signori mi hanno certamente visto infatti dicemmo quasi in coro invece li ho appena trovati nella mia borsa non riesco a capire come sia successo sono ritornato per darglieli un'altra volta eccoli l'amministratore tirò fuori la stessa busta e per la seconda volta contò le dodici banconote da mille franchi dicendo ora so che cosa affligge le montagne stasera e ho paura dormirò qui ora i dodici mila franchi erano sul tavolo il nostro ospite urlò ora le abbiamo qui davanti a noi dove sono le carte giochiamo i dodici mila franchi in cinque punti per vedere per essere certi voglio proprio vedere aprì il gioco il mio avversario chiese una carta io no aveva cinque onori segnò due punti poi distribuì lui le carte scoprì il re fu il mio turno lui aveva ancora cinque onori altri due punti tra i due fa cinque aveva vinto cominciò ad urulare come il vento che sembrava il guaire di un cane afferrò le carte e le gettò nel fuoco nel fuoco le carte che il fuoco le consumi urlò improvvisamente si diresse verso la porta fuori c'era un cane un cane che spandeva nell'aria il suo ululato di morte l'uomo arrivò alla porta ed ali chiese sei tu mister per quale strano fenomeno improvvisamente e contemporaneamente il cane e il vento ammutolirono l'uomo soppiuse lentamente la porta nello stesso istante quel lamento infernale ricominciò a farsi sentire così prolungato e lugubre da farci tremare fino al midollo il nostro ospite si era buttato addosso alla porta con una tale furia che per un istante pensammo l'avesse sfasciata aveva rimesso tutti i cavistelli e premeva contro di essa con brazza e ginocchia senza parlare si sentiva solamente il suo respiro affannoso poi quando quel lugubre ululato fu cessato e dentro e fuori il silenzio regnò sovrano l'uomo voltandosi verso di noi e venendo avanti disse è tornato state attenti è mezzanotte ognuno è andato per la propria strada ma Cocco e Matisse sono rimasti giù accanto al fuoco morente Allan è andato in camera e io guidato da una forza sconosciuta che ha assoluto dominio su di me mi ritrovo nella camera maledetta ripeto tutti i gesti dell'uomo che questa notte ci ha raccontato la sua storia prendo lo stesso libro lo apro alla stessa pagina vado alla stessa finestra scosto la tenda guardo lo stesso paesaggio illuminato dalla luna il vento ha spazzato via le nuvole e la nebbia vedo solo rocce nude che brillano come acciaio alla luce della luna e scorgo anche la danza di una strana ombra l'ombra di Mister con le sue enormi macelle spalancate e vedo che sta abbaiando sento il suo abbaiare sì mi sembra di sentirlo lascio ricadere la tenda prendo la candela che è sul cassettone e vado verso l'armadio mi guardo nello specchio e penso a lui che ha scritto quelle parole che sono nascoste lì dentro di chi è questo viso che vedo riflesso nello specchio è il mio è possibile che in quella notte fatale il viso del nostro ospite sia stato più pallido del mio ora il mio è il viso di un uomo morto ecco lì quella piccola nuvola quella strana nebbiolina nello specchio guancia a guancia col mio viso quei terribili occhi quelle labbra se solo potessi urlare ma non posso non riesco ad urlare e poi improvvisamente sento bussare tre volte la mia mano guidata da una forza ignota va verso la porta dell'armadio la mia mano indagatrice la mia mano maledetta ma qualcuno improvvisamente afferra la mia mano e io conosco quella presa mi volto e mi ritrovo faccia a faccia con il nostro ospite che mi dice con una voce che sembra venire dall'aldilà non apra il mattino dopo non chiedemmo al nostro ospite di darci l'opportunità di rifarci della perdita della sera precedente lasciamo la casa senza neppure congedarci da lui gli facciamo consegnare i 12.000 franchi che avevamo perso dal padre di Makoko al quale avevamo raccontato la nostra avventura vennero restituiti insieme a una lettera siamo pari quando abbiamo giocato sia la prima partita che voi avete vinto sia la seconda che voi avete perso abbiamo creduto voi e Dio di giocarci i 12.000 franchi questo è sufficiente il diavolo ha la mia anima ma non potrà mai avere il mio onore nessuno di noi voleva avere quel denaro così decidemmo di fare una donazione a un ospedale di Lachaudet Fon che aveva bisogno di sovvenzioni in una notte d'inverno dopo essere stato riparato con il denaro dato da noi l'ospedale cominciò a bruciare l'incendio durò fino al mattino dopo e di tutto l'edificio rimase solo cenere e di tutto l'edificio 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 e di tutto l'edificio